Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Pensiero Bianconero. Oggi facciamo un punto sul mercato come stiamo facendo di solito ultimamente. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a lasciare un like al video e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Allora, è un momento ancora preparatorio del mercato, quindi bisogna prendere tutto con le pinze, però noi proviamo comunque a dare dei nomi, a fare anche delle valutazioni su questi nomi. Certo, resta sempre da sciogliere il nodo giuntoli e il nodo allenatore. Cambiano le sensazioni, no? Perché ci sono giorni in cui vediamo Allegri più fuori, ci sono giorni in cui vediamo Allegri più dentro. Questo non so sinceramente come vederlo. Non si capisce niente. Ecco, potremmo semplificare così e chiudere il video con questa frase, perché poi è la verità. È la verità. Però comunque c'è stato un incontro tra Mann e Allegri per parlare di mercato, quindi questo fa pensare che comunque forse davvero si andrà avanti con lui, forse queste voci che vengono alimentate su un suo possibile addio sono più alimentate da una speranza che da altro. Però si dovrebbe andare avanti così, si è parlato addirittura della Juve che ha già in mente Allegri per il prossimo anno. In sostanza, comunque, per quello che ha riportato Sky, invece Allegri nell'incontro con Manna si sarebbe detto allineato con la società, carico per la prossima stagione, allineato intendo anche sul mercato, quindi non solo con chi è in società, quindi staremo a vedere, no? Aggiorniamo le percentuali di Allegri a livello di sensazioni, dai. permanenza 70%, 65%. Sono d'accordo ma dico 70, dico 70. Vediamo, magari nel prossimo video parleremo di un 2% o di un 100%. Siamo in balia veramente delle onde, però vediamo un po'. Allora, parlando di mercato, andiamo un po' per ordine di ruoli, così ci viene anche più comodo, no? Perché ci sono porte scorreboli in difesa, soprattutto sugli esterni. Partiamo dal fatto che dei difensori centrali non se ne parla, quelli che ci sono al momento sembrano dover restare, quindi Danilo resterà sicuramente, Gatti resterà sicuramente, Bremer molto probabilmente, Bonucci dovrebbe restare, Rugani probabilmente andrà in scadenza così, no? Non so come la vedi tu, però il suo ingaggio a 3 milioni e mezzo preoccupa un po' squadre che magari lo prenderebbero anche, ma non a quel costo. Ma sarà sicuramente il suo ultimo anno, eh? Alla Juventus, credo, eh? Poi ovviamente se arriva una pretendente che fai, lo tieni? No. No, no, no. Però il procuratore aveva ribadito, no? Che comunque si trova bene alla Juventus, grazie, si trova bene. L'hai già detto tu qual è la grande motivazione per il quale si trova bene Rugani alla Juventus. Poi, onestamente, cioè il problema resta quello, lo stipendio, perché comunque come quinto difensore secondo me andrebbe bene, per quello che ha dimostrato anche quest'anno in quelle poche partite che ha fatto, no? Si è fatto trovare pronto, quindi. Infatti, da questo punto di vista vedremo, non sono così sicuro che sia il suo ultimo anno. Di sicuro è il suo ultimo anno a 3 milioni e mezzo. Quello è certo. Lo voglio ben sperare. Magari lo rinnovano a 5 all'anno, però la vedo difficile. Però diciamo, sui centrali non ci sono particolari novità. Per quanto riguarda le fasce, allora partiamo dalla fascia sinistra. Con Alessandro si continua a trattare la rescissione e quindi credo che poi alla fine Alessandro andrà via. Per quanto riguarda invece Pellegrini non dovrebbe rientrare perché la Lazio lo vuole riscattare non a 15 milioni, prezzo prefissato, ma intorno ai 10. Comunque credo che alla fine andrà attito a definitivo alla Lazio perché comunque anche a 10 milioni io lo venderei e penso che la Juve possa voler fare cassa e in più quando c'è la volontà del giocatore. Sì, lui diciamo che tutte le volontà vanno verso quella strada lì e poi c'è Cambiaso che comunque tornerà, sarà valutato, ma non è da escludere che poi dopo il ritiro possa magari deludere. La Juve comunque lo valuterà, lo testerà, potrebbe tornare in prestito e da questo punto di vista il Bologna resta alla finestra perché sarebbe la squadra favorita poi nel riprenderlo in prestito. Quindi fascia sinistra, Pellegrini non torna. Alessandro va via, Cambiaso da vedere. Metterei comunque sempre un punto interrogativo su Alessandro perché si tratta la rescissione però comunque non è facilissima questa cosa. Secondo me noi speriamo, almeno io spero, ci trovi questo accordo perché ci servono forze fresche soprattutto sulle fasce per cercare di creare qualcosa in più a livello offensivo anche, nonostante siano dei terzini. Sì, però diciamo che se già quest'anno eravamo messi male sulla sinistra, ad oggi siamo messi veramente male. Poi Allegri piace Parisi, Dell'Empoli e potrebbe comunque parlarsene, ma penso che poi quel discorso partirà una volta capita la situazione di Alessandro. Però terzini e sinistri abbastanza inguaiati, diciamo. Sulla destra, meno male, anche Quadrato non si capisce bene, si dice prima cosa poi l'altra, però sembrerebbe comunque lontano da una permanenza della Juve, almeno per le ultime notizie. Si parla di Turchia per lui come per McKennie, ma ne parleremo dopo. E quindi a destra anche siamo messi, diciamo abbastanza scoperti. Da questo punto di vista però... A destra non abbiamo niente praticamente in questo momento. No, avremmo De Sciglio rotto e al massimo Barbieri. Sai che non lo metto perché comunque è trociato e è trociato. Al massimo Barbieri, però... Secondo me sembra sul prestito con Barbieri, però... Sì, ma comunque non sarebbe un titolare della Juve, quindi... Assolutamente, assolutamente. A destra però c'è qualche nome in più, no? È saltato fuori il nome di Odrio Zola, che vale per il Real 5 milioni, ma potrebbe addirittura essere lasciato libero da Real Madrid. La Juve lo segue, lui è un 95, quest'anno ha fatto appena tre presenze in Liga. Lui è stata poi un po' una devusione per il Real, perché lo pagò 30 milioni quando lo acquistò. La scorsa stagione con la Fiorentina, non è che abbia brillato chissà quanto, a me non è un nome che scalda particolarmente, diciamo così. Poi prendere gli scarti a me non piace mai, però questo è un altro discorso. Ho capito, ma in questo momento puoi permetterti questo, secondo me. Nel senso, c'è il famoso Fresneda, no? 2004, seguito un po' da tutti, lo devi pagare. Sì, però ti faccio un altro nome, quello di Holm, che comunque viene sempre nominato in ottica Juve, basterebbero circa 7 milioni, un classe 2000 in rampa di lancio. Preferirei quei nomi lì io per aprire un nuovo ciclo, piuttosto che uno scarto del Real che comunque sembra già una fase calante. Però io non sono impressionato da questo Holm, che tutti ne parlano, onestamente. Poi forse di otro gioco la metto il fatto che ha un po' di esperienza in più, no? A livello di club, però giustamente tu dici, non ha giocato, però per me la Fiorentina non ha fatto malissimo. Holm, io, però alla fine stiamo parlando di due nomi che non è che ci fanno fare il salto di qualità, eh? Parliamoci chiaramente. No, non ci fanno fare il salto di qualità, per quello ti dico a questo punto, almeno prendi un giovane che magari però potrebbe... Chi ha uno, eh? Un 2000, un 2000, giovane, neanche ormai, no? 23 anni, non è che sia giovanissimo, però comunque... C'è a noi vecchi. Esatto, però sta... Comunque ha fatto un'ottima stagione con lo Spezia, non è facile fare un'ottima stagione con lo Spezia, quindi bisogna sempre considerarlo. Quindi diciamo che per quanto riguarda la difesa, centrali, abbiamo detto, al momento si muove poco sugli esterni, queste sono le ultime novità, c'è veramente da lavorare tanto, tanto, tanto sugli esterni, secondo me prima, ripeto, capiranno la questione al quadrato, la questione all'Alessandro per poi andare giù dritti sugli altri. Però, se ci pensi, al centrocampo non siamo messi tanto meglio a livello di certezze, perché parlando di centrocampisti centrali, io penso che due giocatori siano sicuri di restare alla Juve, Locatelli e Fagioli. Ah, è anche Pogba, è vero. Lo dimentico Pogba, perché poi... Non siamo abituati, davvero. Non siamo abituati. Non so più neanche se è biondo o se è moro, citando Massimiliano Allegri. Ok, questi tre, con l'incognita Pogba comunque sempre da tenere, per le condizioni fisiche intendo, però ti faccio l'elenco. Allora, Miretti comunque potrebbe andare in prestito. Su Zachary Arthur non ci sono novità. Rovella torna per restare, ecco, quindi io dicevo quelli che restano, però Rovella torna per restare, quindi abbiamo quattro centrocampisti. Si aspetta ancora una risposta da Rabiot, io credo che appena arriverà un'offerta importante per il francese. Bavia. Bavia. McKennie, c'è un interesse del Galatasaray, vedremo, secondo me difficilmente resta per tornare. si continua a parlare di frattesi, ma è interessato anche l'Inter, però questo poi sarebbe eventualmente un acquisto. L'altro è Ranocchia che non è stato riscattato da Monza. Sarà valutato da Allegri Occhi per lui. Allora, da Allegri Piat è sempre piaciuto, però dobbiamo fare anche una squadra per cercare di arrivare nei primi quattro, non dico tanto. Senza nulla togliere Ranocchia, però, almeno, io una cosa posso dirla, a mio parere sempre personale, come diceva qualcuno, io Ranocchia ad oggi lo preferisco a Miretti. Sì, sono comunque due giocatori diversi, secondo me, per caratteristiche, però non è da escludere che Ranocchia resti e Miretti vada in prestito, per esempio, no? Certo. Però è tutto, è un po' tutto a valutare. Diciamo che comunque anche lì ci sarà tantissimo da lavorare. E io spero che la Juve torni ad essere brava, soprattutto a vendere, perché abbiamo smesso di saper vendere, penso, ormai da cinque o sei anni. E quindi, sì, si continua a parlare di frattesi come possibile innesto. C'è anche l'Inter sul giocatore, è una situazione totalmente in divenire. Sappiamo che le trattative col Sassuolo sono estenuanti e abbastanza lunghe. e quindi questo è. Poi, se vogliamo metterlo tra i centrocampisti, anche se, diciamo, un esterno più offensivo, Kuluseski potrebbe ancora essere scattato dal Tottenham. Ci sarà un incontro a breve tra Juve e Tottenham, però si è inserito anche il Newcastle, forte della presenza in Champions. Potrebbe comunque ingolosire lo svedese. Staremo a vedere, ecco, credo che anche Kuluseski comunque non tornerà. Forse su Kuluseski siamo, ora magari la sto sparando cross, un po' più sicuri sul fatto che verrà ceduto, no? Forse è l'unico di quelli che abbiamo che... Poi, non dimentichiamoci Arthur comunque. No, io, Zachari e Arthur non ci sono novità e non so se l'ho detto prima, forse mi è sfuggito, me l'ero segnato. No, forse, vabbè, comunque, l'ho rimesso io nel... Sì, ma comunque non tornerà per restare. Io credo che quelli che possono tornare e restare siano, oltre Rovella, l'abbiamo già detto, di quelli, diciamo, grandi, Zacaria ed eventualmente McKennie, però anche Zacaria io senza... cioè con Allegri era andato via proprio per Allegri, non so quante chance possa avere. Diciamo che, comunque, ricapitolando, si ripartirebbe da Locatelli, Fagioli, Pogba, Rovella e poi è da vedere. E comunque ne devi prendere due, di cui uno buono, perché comunque era Biopar impiazzato. Comunque, ti ho scritto prima, prima di iniziare questo video, Samarzic, no? Che quest'anno ho giocato pochissimo con Lodinese, c'è qualche italiana interessata, secondo me non costa neanche così tanto, lui è un trequartista. Dato che si è parlato di un 4-3-1-2 possibile il prossimo anno di Allegri. È vero che, però, ricordiamo sempre che forse faremo la Conference League, ma io onestamente investirei, poi non so quanto è la valutazione di questo giocatore, su di lui. Sì, anche perché ne parlavamo prima del video, no? Pogba viene visto da trequartista, è chiaro che è un'ipotesi questo 4-3. Garanzia non ne dà. Esatto, quindi un altro lo dovresti comunque prendere. Quindi, ricapitolando, porte scorrevoli, ma veramente scorrevoli sia su sulle fasce che a centrocampo, in attacco poche novità ad oggi, ragazzi. Milik ancora non si è capito benissimo, ma secondo me alla fine si tratterà e resterà a Torino per... Sì, anche le sue parole, no? Sono state importanti. Lui vorrebbe tornare, si è trovato bene, quindi di regola o si farà un altro prestito con diritto obbligo di riscatto, oppure verrà acquistata una cifra. Si spera ancora più inferiore che poi 7 milioni, io lo ricordo, non è che sia una chissà quanti per Milik. Quindi, secondo me alla fine tornerà, perché per me ha fatto bene ed è giusto che... Ma può essere anche che la Liga stia facendo sto ragionamento per provare a risparmiare anche un milione, un milione e mezzo. Sì, 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 per carità. Comunque, da questo punto di vista, vediamo, non ci sono poi particolari news su Blauvic, su Ken, su Chiesa stesso che continua ad interessare in Premier, vedremo magari la Nations League, sarà una vetrina che potrà riaccendere un po', no? Si fa il nome di Zagnolo, se volete lo collocate al centrocampo, se volete in attacco, però anche qui, come dico molto spesso per alcuni giocatori, secondo me, sono più voci messe in mezzo in questo momento dal suo entourage che altro, perché comunque, poi io non trovo una connessione rispetto ad alcuni giornali che danno voci su Chiesa partente per 40 milioni e Zagnolo acquistato a 30, perché a suo punto ti tiene Chiesa, però vediamo, quindi... Che dobbiamo sempre sostituire Di Maria, quindi io, Zagnolo, secondo me, è ancora per quel fatto che si sta mettendo dentro, ma lui comunque, che sia... cioè, questi giocatori possono servirci come, che ne so, Locatelli, che ha sempre fatto Juve fin da quando era piccolo, Zagnolo stesso, ci serve un po' di juventinità, di attaccamento alla maglia, io lo prenderei comunque. Vero, però ci servono anche giocatori sani, perché dobbiamo tornare ad avere giocatori i sani e Zagnolo, da quel punto di vista, è un po' un'incognita. Lo so, lo so, hai ragione. Al netto del fatto che Di Maria non abbia fatto un'ottima stagione, sarebbe un downgrade Zagnolo per Di Maria, almeno sulla carta, poi magari viene e fa lo sfracello, però... Quindi questo è, ragazzi, queste sono le ultime news, intanto ci riaggiorniamo a breve, vi ricordiamo, come sempre, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale, se non l'avete già fatto. Ciao a tutti, ragazzi, e buona serata. Ciao, ragazzi.